Ciao da Avsim, il girone del Milan è finito della maniera meno pronosticata e meno pronosticabile Dortmund primo, PSG secondo, poi il Milan terzo e il Newcastle all'ultimo posto probabilmente le previsioni più accreditate vedevano il Paris Saint Germain al primo posto il Milan al secondo, il Dortmund terzo, anzi il Newcastle terzo e il Dortmund proprio all'ultimo quindi c'era praticamente da capovolgerlo, questo a dimostrazione per l'ennesima volta che le chiacchiere nel calcio stanno a zero, che sulla carta i valori sono sostanzialmente sballati e che bisogna guardare le partite e bisogna capire che cosa si fa sul campo e le prestazioni sono fondamentali di buona prestazione, prestazione soddisfacente, Pioli aveva parlato il 19 settembre dopo la partita di andata contro Newcastle adesso dice che il rammarico è proprio quella partita lì, è chiaro che si riferiva al pareggio è chiaro che si riferiva a non aver vinto, a non aver fatto quei due punti perché ieri dal punto di vista del risultato e anche in parte dal punto di vista della prestazione Emiliano ha fatto quello che doveva fare, ha vinto, ma non è bastato non ho guardato la partita tra Dortmund e il Paris Saint Germain mi pare di capire che comunque se la sono giocata al massimo quindi non si può parlare di biscotto anche perché non credo assolutamente che il Paris Saint Germain avrebbe accettato di buon grado ha accettato di buon grado di essere al secondo posto nel girone perché, parentesi, questi gironi di Champions ci raccontano davvero che le più forti finiscono sistematicamente in prima posizione del girone tranne appunto un paio di casi e quindi con il Paris Saint Germain che non riesce mai di stagione in stagione di competizione in competizione ad andare oltre gli ottavi tranne qualche raro caso finire secondi proprio quest'anno è quasi già una sentenza per cui davvero non si può parlare di un accordo per far fuori, per passare entrambe Dortmund e Paris Saint Germain perché questo sarebbe stato in danno del Paris Saint Germain e appunto la cosa non poteva essere gradita quindi tornando al Milan ha fatto quello che doveva fare ma troppo tardi dopo non aver fatto quello che doveva fare troppe altre volte a livello di risultati ma soprattutto di prestazioni allora analizziamo la prestazione Pioli l'ha gestita sicuramente bene per quanto riguarda i cambi anche per quanto riguarda il minutaggio dei giocatori Leao ha retto praticamente tutta la partita benissimo gli ingressi anche di Jovic ma soprattutto di Okafor e in particolare Ciuqueze che in pochi secondi hanno confezionato questo gol decisivo gettando letteralmente nel panico e nella disperazione tutto il pubblico di casa fuori quindi Newcastle fuori completamente fuori dall'Europa da dire che avendo guardato l'ultima partita del Newcastle contro il Tottenham dicevo in un apposito video il Milan di Pioli dovrebbe giocare come il Tottenham di Postegiolu nello specifico contro il Newcastle e in generale per i valori e per le caratteristiche ebbene il Milan continua a giocare in maniera completamente diversa certo non è obbligato a giocare come il Tottenham ma sarebbe un buon esempio sarebbe un buon punto di riferimento soprattutto per quanto riguarda i posizionamenti offensivi che il Milan non ha il Milan continua ad essere una squadra troppo contropiedista troppo chiusa dietro anche se poi quando cerca di fare il possesso soprattutto in campionato lo fa con un baricentro molto alto però credo che questo Milan non sia più in evoluzione sarebbe stato bello vedere a questo punto nonostante i calcoli nonostante l'urgenza del risultato nonostante a tratti la disperazione qualcosa in più faccio riferimento anche ad alcune scelte di formazione io continuo a non capire nulla probabilmente ma tra le varie cose non capisco perché il centrale diciamo fuori ruolo adattato dovrebbe essere Teo e non Florenzi non che Teo abbia giocato male ma con Florenzi da quella parte perdi molto in impostazione contando anche che normalmente Pioli ha impostato adesso non più proprio perché mancano alcuni giocatori la costruzione la prima impostazione con l'accentramento dei terzini a formare un quadrato con i due centrali ora un conto è mettere Teo Hernandez che già è abituato a farlo centrale in mediana in costruzione davanti a Florenzi adattato altra cosa è il contrario ed infatti si è perso sostanzialmente l'apporto di Teo Hernandez proprio nella costruzione altra cosa che non mi è piaciuta è la scelta di invertire Reinders con Loftus-Cheek hanno giocato entrambi abbastanza bene direi soprattutto Reinders ma secondo me era da mettere Loftus-Cheek davanti alla difesa per un discorso proprio di filtrare perché infatti all'inizio della partita è stata una partita in decrescendo da parte del Newcastle e ha perso sempre più entusiasmo sempre più grinta intensità sempre più capacità di tenere il campo mentre il Milan è salito sono state proprio due due linee che si incrociano con tendenze praticamente opposte ma all'inizio della partita è stato quasi gioco facile per il Newcastle superare la prima linea di pressing comunque oltrepassare la linea d'argine rappresentata dal centrocampo in particolare con Musa e Reinders mentre Loftus-Cheek era impegnato più nel fare un pressing più alto in linea con Giroud e con gli attaccanti e questo ha portato a notevoli pericoli da questo punto di vista è stata una partita spettacolare è stata una partita bellissima doppio palo per il Milan quell'occasione di Teo Hernandez alla fine quando il portiere era salito in area che ha sfiorato il palo l'avrebbe dovuto calibrare meglio il tiro dalla distanza proprio a porta vuota la traversa con deviazione di Meignan da parte del Newcastle il salvataggio clamoroso di Tomori che aveva tirato su tantissimo entusiasmo tantissima grinta da parte dei tifosi ma pochi minuti dopo è arrivato il gol e da dire anche poi le occasioni paradossalmente sono state finalizzate le meno significative se andiamo a vedere sicuramente il gol di Ciuguez è molto bello anche per dinamica però il gol di Pulisic è stato praticamente un flipper molto casuale sul filo del fuorigioco quindi una cosa difficilmente ripetibile una cosa anche abbastanza fortunata insomma la fortuna è stata anche dalla parte del Milan ma questo non per togliere alcun merito perché il Milan alla fine se vogliamo ha anche meritato di vincere questa partita per quella che è stata la reazione nel secondo tempo è qualcosa di buono che si è visto di migliore che si è visto nel secondo tempo il pallone viaggiava meglio era più preciso era più pulita la costruzione si riusciva si riuscivano a trovare meglio i giocatori in campo e ripeto Fioli ha scelto bene l'ingresso dei giocatori perché l'energia l'intensità è stata mantenuta alta anzi se forse pure inalzata e questo anche avvantaggio di chi stava in campo da prima magari era più stanco però nell'ingresso dei compagni ha visto un motivo in più uno stimolo in più per alzare il ritmo per alzare il livello dall'altra parte però ecco un po' di sfortuna anche per il Newcastle diverse occasioni anche sullo 0-0 con tiri fuori di poco qualche parata magari non difficile ma comunque importante di Mignani insomma una partita che avrebbe potuto avere un esito un punteggio diverso di qualunque tipo ma tornando alle scelte di Pioli ecco che cosa non si vede a livello di crescita cioè usciamo da questa partita che può anche dare soddisfazione per la prestazione che può anche dare soddisfazione per determinate note positive che sicuramente è una vittoria amara pur essendo importante aver vinto in Inghilterra chi se ne frega c'è Pioli che dice il Milano vinceva in Inghilterra dal 2005 chi se ne frega poi in Inghilterra c'è Inghilterra Inghilterra usciamo da questa partita dove però ecco magari non c'è troppo di straordinario e come dicevo una vittoria amara perché si esce dalla Champions League ora però l'Europa League diventa giustamente un'opportunità e bene fa Pioli anche per bilanciare devo dire strategicamente il malumore dei tifosi che rumoreggiavano incredibilmente sui social durante la partita nel momento dello svantaggio il fatto che il Milano non ha mai vinto l'Europa League aggiungo non ha mai vinto manco la vera Europa League cioè la Coppa UEFA perché signori della UEFA signor Ceferin o cambiate il trofeo oppure noi continueremo a chiamarla Coppa UEFA perché avete commesso l'errore di cambiare il nome ma di lasciare lo stesso oggetto e per noi quella sarà sempre in eterno la Coppa UEFA ecco quindi Milano non l'ha mai vinto non ce l'ha proprio quella forma lì porta ombrelli diciamo così non ce l'ha purtroppo non ce l'ha in bacheca e quindi si assume subito la responsabilità di cercare di fare il massimo ed effettivamente può diventare un'opportunità da dire però che diventa un'opportunità con due partite in più ricordiamo perché rispetto alla Champions League il Milan dovrà fare i playoff i cosiddetti playoff in realtà i sedicesimi dovrà fare con chi invece è arrivato secondo nel girone di Europa League quindi ci sono degli impegni in più ci sono delle partite in più l'abbiamo visto anche l'anno scorso con la Juventus che comunque l'Europa League è molto diversa perché vai a giocare contro squadre che non conosci che non hai mai affrontato in posti dove non sei mai stato e quindi ha delle difficoltà intrinseche e quindi non è assolutamente scontato per il Milan neanche andare in semifinale figuriamoci eventualmente in finale a vincere però questo poi si vedrà uscendo dicevo da questa partita la non evoluzione che manca il fatto che per esempio Leao continui a dover giocare da solo la giocata isolata di Leao va bene perché Leao è bravissimo nell'uno contro uno ma non può avere una percentuale di vittoria degli uno contro uno di successo negli uno contro uno neanche del 50% figuriamoci di più cioè nel calcio quasi nessuno vince più dribbling di quelli che perde vince più uno contro uno di quelli che sbaglia anche perché dopo una prima partita una seconda partita in cui si capisce che se hai uno che va all'uno contro uno ti vengono a raddoppiare a triplicare ed è quello che succede quindi Leao ha potuto trovare ottimi spazi nel secondo tempo anche la dinamica del punteggio ha favorito il Milan cioè il fatto di segnare diciamo verso metà del secondo tempo ha portato il Newcastle probabilmente a sbilanciarsi un po' a lasciare un po' di spazi ed ecco che è stato più facile per il Milan creare occasioni e fare anche il secondo gol ma diversamente come si sarebbe messa quindi c'è stato anche un concorso di circostanze quindi Leao troppo isolato ripeto Reinders costretto a fare troppe cose a coprire troppo campo in avanti perché lui è un giocatore a mio avviso che deve stare dietro la punta cioè proprio il contrario Reinders dovrebbe fare tra virgolette il trequartista la mezzala offensiva e mettere dietro Loftus Chick con Musa ecco io probabilmente avrei proprio invertito il triangolo cioè avrei sistemato al contrario questi giocatori ma soprattutto avrei invertito Reinders e Loftus Chick perché secondo me per caratteristiche anche in questa specifica partita avrebbero dovuto dire cose diverse ma in prospettiva non è che ci sia tutta questa complessità ed evoluzione nel gioco del Milan ormai sembra un gioco piuttosto banale cioè Pioli sta puntando sulle cose sicure sulle cose più pratiche e questo non va bene perché ha una squadra con giocatori evoluti ha una squadra con giocatori duttili con giocatori capaci di fare tante cose con giocatori molto tecnici tutti quanti a parte gli infortuni chi gioca sta anche bene dal punto di vista atletico e quindi si può inventare qualcosa di più poi ovviamente si vedono anche buone prestazioni ha giocato bene Pulisic ha giocato bene ripeto sia Loftus Chick che Reinders ha fatto il suo anche Musa magari non dando il solito ritmo però è stata anche una partita con molte interruzioni soprattutto a parte Newcastle che ha avuto proprio la strategia se ci fate caso di farsi fare fallo ad ogni occasione di possibile ripartenza di Milan proprio per strancarla sul nascere e quindi è stata una partita difficile fisica anche da questo punto di vista ora si recupereranno magari i difensori si recupererà qualcun altro lo stesso Okafor e Chukwez troveranno magari più minuti però si deve vedere qualcosa di diverso Pioli è vero che ormai è quasi alla fine io credo che a fine stagione lo manderanno via ma ovviamente può ancora determinare il suo destino perché può ancora ecco decidere può ancora capire e quindi decidere di fare qualcosa di più ed è su quello a questo punto che deve lavorare lasciando stare tutte le chiacchiere terzo posto nel girone la Champions l'Europa League obiettivo minimo quarto posto ma cercheremo di fare qualcosa in più sembra quasi una presa in giro anche se l'ho letta in maniera diversa in precedenza sul mio secondo canale YouTube Abzimaut primo link in descrizione e cioè che almeno Pioli non si nasconde rispetto al fatto che il quarto posto sarebbe l'obiettivo minimo e non l'obiettivo massimo però adesso bisogna fare adesso bisogna lavorare di più meglio questo Milan può giocare un calcio migliore senza paura senza paura senza calcoli sui risultati perché alla fine proprio per fare calcoli sui risultati proprio per non esagerare nella complessità e nell'evoluzione tecnico-tattica ecco che il Milan è in questa situazione cioè non mi pare che il Milan sia in una situazione eccelsa avendo puntato in alcune partite più sul risultato che non sulla prestazione e di conseguenza forse se si fosse puntato di più su un certo tipo di prestazione prendendo anche autostima prendendo anche vigore in un certo tipo di partite oggi la situazione anche in termini di punteggio sarebbe stata diversa non avremo mai la riprova ma abbiamo la prova di quello che è adesso e non è assolutamente saltante mi fermo ma ci sarebbero tante altre cose da dire lo faremo nei prossimi video lo facciamo sul Discord dove c'è sempre dibattito H24 sul calcio e quindi grazie per la vostra attenzione e buon dibattito nei commenti e sul Discord like al video se vi è piaciuto condividetelo iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video sulle partite di calcio sul calcio e quindi seguirà il commento anche la partita della Lazio parliamo anche del calcio inglese appunto Premier League Bundesliga e tanto altro anche per suggerimenti ai video c'è sempre la community sul Discord abbonatevi al canale se volete molti vantaggi bastano solo 99 centesimi al mese come abbonamento base e seguitemi appunto anche su Avsim Out il secondo canale ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out a tutti i nostri spettano